Circa duemila persone hanno partecipato alla cerimonia funebre oggi pomeriggio dentro e fuori dalla chiesa di Santa Maria Madre dei Poveri a San Fermo. I feritri arrivati uno accanto all'altro al termine del funerale celebrato da Monsignor Giuseppe Vegezzi sono stati accompagnati a spalla dagli amici dei due giovani con la loro canzone preferita Destri di Gazelle sullo sfondo. Ci avete riempito la vita di emozioni siamo fieri di aver fatto parte di voi rimarrete in eterno con noi e nei nostri cuori fate buon viaggio amici questo non è un addio ma un arrivederci hanno scritto gli amici di sempre su uno striscione. In chiesa al termine della funzione ha preso la parola anche Luca Malnati il fratello di Silvia. Il giovane ha letto una lettera che avrebbe voluto consegnare alla sorella il giorno della laurea. Oltre a ringraziare tutti quanti sono stati vicini alle due famiglie in questi terribili giorni Luca che ha parlato di Alessandro come di un secondo fratello ha detto ciao sorellina il tuo brother è fiero di te dicevi sempre c'era tempo e invece no ti sei sempre data da fare per la famiglia con il sorriso sulle labbra e al tuo fianco avevi una persona stupenda che si prendeva cura ogni giorno di te. Con mamma e papà cercheremo di farci forza l'un l'altro così che sarai ogni giorno con noi.